Grazie a tutti Mi ha contattato il mio procuratore chiedendomi della mia disponibilità di fare questo scambio qui con Ingrosso, non c'è stato nessun problema, poi non c'è stato nessun problema sull'aspetto contrattuale ed economico, quindi è stata un'operazione veloce svolta nell'ultimo giorno e mezzo, quindi è stato velocissimo. Nell'ultimo anno ho sofferto un po' il fatto come è stata gestita la situazione, logicamente sono onesto, avevano preso un giocatore come Krager che è forte e quindi mi sono messo a disposizione, facevo la sua alternativa, quindi non c'era nessun problema. Però sono state gestite un po' così e quindi ho sofferto un po' sotto quel punto di vista lì, comunque il calcio è anche questo, ho questa nuova avventura, questa nuova possibilità per mettermi in mostra, sono qui con tanta voglia di fare e dare una mano a questa squadra, quindi non porto nessuno a cuore ma anzi ho tanta voglia per mettermi in mostra. Non sarà facile togliere il posto a lui ma penso che comunque una sana concorrenza ci deva essere, poi sceglierà il ministro domenica chi scenderà in campo. Uno conoscevo sia Casarini, Beretta, quindi non c'è stata neanche tanta difficoltà ad inserirmi, sono contento di essere qui e quindi vedo l'ora di cominciare con la Salernitana questa nuova avventura. Il lavoratore punta, cioè già con il Lecce anche se non abbiamo giocato, ogni dettaglio non lo lascia da parte, anzi mira sempre alla perfezione, questa settimana qui stiamo lavorando molto con il prof ma anche poco, tatticamente comunque siamo in pausa, quindi devo dire che comunque si fatica ma io sono contento perché alla fine poi al sabato non fai fatica, fai fatica durante la settimana ma al sabato no. Grazie per la visione! Grazie 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 Grazie